ciao questa è la scena con la quale c'eravamo lasciati l'altra volta è molto molto ripetitiva con tutti questi sassi tutti uguali e ovviamente perché sono delle istanze tutte identiche comunque noi possiamo utilizzare degli oggetti grease pencil aggiuntivi per fare anche dei ritocchi metto intanto in pausa tutto quanto e torno sul primo fotogramma per essere sicuro di disegnare il primo fotogramma vado a nascondere l'emitter delle foglie per poter lavorare più facilmente quindi ora posso creare un nuovo oggetto grease pencil quindi grease pencil lo creo di nuovo blank vuoto e questo lo chiamo aggiunta per esempio e ora andando in draw mode posso andare a fare delle correzioni appositamente uso sempre i colori quindi adesso comincio con un materiale di tipo di riempimento quindi solid fill e utilizzerò come abbiamo fatto finora i colori ho a disposizione ecco il colore del terreno qui ancora non lo vedo lo posso mettere nella palette con lo strumento eye dropper se io premo lo strumento eye dropper e scelgo palette e clicco su un colore sullo schermo adesso nella palette è stato aggiunto questo colore su cui ho cliccato per cui adesso posso selezionarlo e sono sicuro che questo è il colore dello sfondo posiziono il mio cursore dove voglio disegnare qui e invece di origin scelgo free di cursor per la posizione del segno e quindi ora posso andare a fare delle aggiunte per esempio per correggere e variare queste situazioni dove si nota la piattezza del terreno devo anche ricordarmi di scegliere free di location come posizione dei segni in maniera che venga utilizzata la posizione nello spazio 3d della sovrapposizione e vedete io sposto il cursore ogni volta appositamente per poter disegnare in quella posizione tutti questi pezzetti se adesso vado torno in object mode tanto perché così lo vediamo vedete questi sono tutti dei piccoli pezzettini che ho aggiunto non corrispondono esattamente alla vera posizione però tanto dalla telecamera la cosa funziona e quindi adesso per esempio dall'alto posso portare il cursore qua giù anzi anche un po più in a draw mode e posso aggiungere anche quello che manca in fondo con l'eye dropper vado a pescare sempre nella paletta anche questo colore di sfondo e di nuovo vado a disegnare ora ancora più lontano 7 disegnare qua giù in questo caso sono ancora con view e questo è il motivo per il quale vedete leggermente inclinato questo disegno ma non è particolarmente importante vediamo ecco si funziona posso schiarire ancora un pochettino ecco adesso ho aggiunto e ho variato leggermente lo sfondo è il caso che peschi anche un po di questo verde e magari con tint vado a dare qualche colpetto adesso ho fatto delle zone molto ampie e quindi ecco questa adesso è diventata un po più verde ed è un pochino più credibile e posso anche disegnare altri elementi quindi adesso mi sposto di nuovo un po qui davanti ecco magari ecco adesso è un po troppo forte questo verde torno nel picker prendo il risultato che c'è qui eccolo lì potrebbe essere solo un pochino più scuro un pochino più verde queste rocce per esempio che sono tutte molto molto simili siccome ho messo nella palette il colore grigio qui posso di nuovo spostare il cursore qui e andare a fare delle singole correzioni quindi ecco alle singole rocce in maniera che non siano proprio tutte uguali soprattutto quelle quelle qui vicino in cui si può notare di più la somiglianza di una con le altre così le sto un pochino ne sto un po rompendo la monotonia potete capire quindi anche l'importanza eventualmente di utilizzare una palette proprio perché potete facilmente riavere a disposizione gli stessi colori ma come avete visto c'è l'eye dropper eventualmente per andare a pescare anche un colore dalla scena quindi c'è solo un pochino la noia di riselezionarlo e quindi ecco che così ho un po variato la situazione qui e sono libero di fare tante altre cose posso adesso riprendere magari il colore del terreno un pochino più scuro e un pochino più rosso e andare a fare dei segnetti anche con un materiale che non sia vediamo sì che non sia il solid fill riprendo un black ecco questo è un po troppo grosso F rimpicciolisco posiziono qui faccio un po di linee qui in questa posizione poi ne faccio anche più indietro quindi non è che perché avete ottenuto la prima parte del disegno in modo ripetitivo dovete per forza lasciarla così com'è la cosa migliore è aggiungere un ulteriore oggetto grease pencil che vada a rimettere ad aggiungere un po di quella variabilità che si era persa può essere l'occasione di fare anche qualche nuvola prendo un marker bold ho spostato il cursore molto lontano pesco il colore del cielo questo lo prendo nella palette e ne prendo una versione più chiara marker bold eccolo deve diventare enorme per permettermi di disegnare laggiù perché sono molto lontano ho voluto disegnare le nuvole in maniera realistica diciamo in fondo ma non è per forza necessario che siano davvero in fondo potrebbe esserci un piccolo movimento di camera che mi evidenzi tutto questo 3d che ho fatto diciamo che in questo momento non è del tutto vistoso quindi posso fare in object mode seleziono la telecamera location e rotation nel primo fotogramma e poi al 250 posso utilizzare la funzione di view camera to view e la sposto leggermente fino a quando ho materiale ovviamente seleziono la telecamera i location e rotation e adesso ho un movimento di telecamera potrei farlo lineare quindi seleziono la telecamera e invece di vado a vedere qua giù che ho i due fotogrammi faccio T e scelgo linear e ora ho un movimento lineare della telecamera che si sposta e evidenzia un po' tutto questo parallasse che avevo creato rendendo il tutto molto più interessante credo che nella parte finale si noti leggermente ecco vedete che si nota che qui non c'è è il posto giusto il green pencil di correzione per andare a risolvere questo piccolo problema e quindi torno magari con ink pen e solid fill sposto il cursore qui e vado ad aggiustare ricordandomi di farlo nel primo fotogramma in maniera che sia presente sempre ops non è quello il colore giusto il colore giusto probabilmente è questo vediamo sì ecco in questo modo ho aggiunto un pezzo che se lo vado a guardare in object mode possiamo notare che si tratta di un pezzetto andiamo a vedere dove si trova eccolo qua è questo qui è verticale però non importa il colore è piatto e quindi non ci si accorge della differenza mi fa da cucitura in questo angolo quindi ricordatevi anche grease pencil che può essere usato per correggere e aggiustare diciamo e fare dei piccoli ritocchi a delle cose già esistenti e dargli ancora quella piccola cosa in più che aggiunge dinamicità eventualmente se avete utilizzato questi trucchi diciamo di ripetizione oppure se avete delle correzioni come questo buco da aggiustare grazie e alla prossima grazie a tutti